Torre del Greco, a piazza Luigi Palomba, un condannato a morte sta per essere condotto al patibolo. Ricordate il video su Via De Bottis, dove vi dicevo che la croce posta all'inizio della strada era forse ricavata dal legno proveniente dal patibolo di un condannato a morte. È giunto il momento di raccontare quella storia. È il 1812, Gioacchino Murà regna a Napoli ormai da quattro anni. Il 7 febbraio, un nobile francese arriva a Torre del Greco per studiare la recente eruzione. Per fare ciò, ha bisogno di qualcuno che gli faccia da guida per salire sul Vesuvio. Il francese si chiama Carlo Adriano de Tricornò e ha con sé un servitore che parla solo francese. Alla ricerca di un accompagnatore, giunge in Largo del Carmine l'attuale piazza Luigi Palomba e si imbatte in un tale che si chiama Nicola Borrelli. Ma tutti lo chiamano Ozzolusiel, un giovane torrese molto povero. Questi accetta di accompagnarlo e iniziano la salita verso il Vesuvio. Ma a metà strada, il servitore del nostro de Tricornò, per la troppa fatica, decide di tornare indietro. Quindi restano soli de Tricornò e Nicola Borrelli. Del povero francese si perdono le tracce. Non si trova né la sera né il giorno seguente. I parenti allarmati fanno di tutto per avviare le ricerche. Il domestico, poco pratico della lingua, viene portato a Largo del Carmine e a fatica riesce a individuare Nicola Borrelli o Ozzolusiel. Dopo una perquisizione, a casa del sospettato, si trovano alcuni indumenti del francese. Vengono ritrovate le calze di seta del nobile, una camicia intrisa di sangue e molte monete di nazionalità francese. Ozzolusiel ovviamente nega di aver mai visto il nobile francese né di averlo mai incontrato, ma è incastrato da tre prove. Uno, il servitore affermò che nelle calze ritrovate all'interno degli orli doveva essere presente la stessa marca delle sue calze. In quanto il giorno prima il padrone gli aveva regalato delle calze dello stesso tipo. Dopo un controllo, risulta che la marca di entrambe le calze è la stessa. Numero due. Durante la salita al Vesuvio, il gruppo aveva incontrato alcuni contadini. Interrogati confermano che effettivamente il Borrelli stava conducendo i due francesi sul Vesuvio e che li stava dirigendo in un sentiero non corretto. Numero tre. Il servitore ricordava di aver ornato il suo padrone con una spilla d'oro. Dopo un controllo, si scopre che la moglie del Borrelli, Principia Catalano, aveva tentato qualche giorno prima di vendere una spilla d'oro. La donna riesce a scagionarsi perché afferma che il marito le aveva detto di aver trovato la spilla per strada. Nicola Borrelli, detto Ozzolusiello, viene dichiarato colpevole di omicidio e di furto. La pena è la forca sulla pubblica piazza della Torre del Greco, con l'esposizione del cadavere per lo spazio di sei ore. Con la morte del povero De Tricornò, senza eredi, si estinse il suo ramo familiare. Questa vicenda è rimasta per tanto tempo avvolta nel mistero. Poche informazioni erano riportate da Raffaele Raimondo in itinerari torresi, finché in tempi recenti non è emerso un documento che ha fugato ogni dubbio. Ferviero Camboleschi è finito nelle mani di Luigi Capano una copia della decisione definitiva, ossia dell'atto con cui veniva condannato a morte Nicola Borrelli. La storia è poi stata narrata nei minimi dettagli da Francesco Raimondo, sulle pagine della TOFA. Io sono sempre il prof Capano e vi do appuntamento alla prossima pinzellacchera su Torre del Greco.